www.mesmerism.it Vai l'alto dìvi, mami! E' un'altra bai! Ehi! Mami chiusa, tu hai fatto! Questa è il caso? Una mia cara per te che ti dà? Ma questa mamma è l'alto dì, poch! Luce, non è l'alto dalle nochi perché è solo notti e notti. La mia città è una dama Ma abbiamo perduto la sua vita, e se questo è quello che perdono il controllo, arriva su questo veicolo e va a dare il conto aiutare il caso di Akinang, abbiamo perduto la sua vita.